Briegel in posizione della destra, tutto il Verona nella metacampo della Cremonese, ale ale, ancora Briegel, cerca di stringere verso il centro, Briegel cerca l'appoggio per Di Gennaro, miracolo di Bori, rete, rete! Ale, 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 bom, 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 bom quello di Borin che aveva in effetti fermato la palla ma questa gli è ricaduta oltre la linea di porta il bordaggio del Verona che vede il primato fanno attento a una botta profonda Borin che respinge di Gennaro Elkier, rete! rete! ale, 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 ale ale, ale, prebe nel Kierlarse che mancano ancora al termine della gara e Pierino Fanna pronto a battere questo calcio di punizione intensatissima l'area cremonese batte Fanna rete! ale, 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 ale ale, 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 ale Grazie a tutti